Nuovo appuntamento con l'informazione di oggi a nord-est. La necessità di presentare al confine da parte degli autotraspottatori in transito un tampone negativo PCR o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti non sta per il momento provocando problemi al valico tostradale di Tervisio Udine dove la viabilità si è presentata regolare. Lo si è appreso dal centro di cooperazione internazionale di polizia di Tormagern. Per il movimento non si registra nemmeno un aumento del flusso di mezzi pesanti deviati in Friuli Venezia e Giulia dopo che al Brennero si sono formate code per oltre 40 chilometri. Non si esclude però che si possono verificare ripercussioni nelle prossime ore. Aggredivano fisicamente e psicologicamente i dipendenti si facevano restituire parte dello stipendio, una storia di caporalato che ha coinvolto una società in appalto diretto alla Fincantieri. I carabinieri della Compagnia di Monfalcone in collaborazione con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Gorizia alle prime luci dell'alba hanno dato esecuzione a traordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Gorizia, dottor Carlo Isidoro Colombo, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili dei reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, estorsione e somministrazione fraudolenta di manodopera commessi a Monfalcone nel comune di Falconara Marittima a partire dal 2018. Destinatari dei provvedimenti, i responsabili di una società con sede della provincia di Ancona, operante in appalto diretto con l'impiego complessivo di circa 170 lavoratori all'interno dei cantieri di Monfalcone, Genova ed Ancona, della società Fincantiere S.P.A. che è risultata estranea nei fatti e ha fornito la massima collaborazione alle indagini. Un'auto travolge un pedone in via Calisto-Cosulice a Monfalcone, è successo questo pomeriggio. L'ambulanza è intervenuta per il pedone che ha subito un trauma cranico ed è stato portato in pronto soccorso in codice giallo, è intervenuto anche un secondo mezzo di soccorso per il conducente dell'auto che ha rifiutato il trasporto, intervenuti sul posto i carabinieri di Monfalcone. Una banda organizzata, professionale e spregiudicata, quella disarticolata dai carabinieri del comando provinciale di Padova, si tratta di professionisti del malaffare altamente specializzati nei furti di autovettura di lusso. I militari della compagnia di Piove di Sacco hanno arrestato a Chioggia due cittadini bulgari in procinto di fuggire dall'Italia con due veicoli riciclati e immatricolati con altrettante targhe estere. L'indagine coordinata della procura di Padova è partita nel dicembre del 2020 e dall'analisi dei dati relativi a una serie di furti di auto di grossa cilindrata in Veneto. Nell'ambito di un'attività investigativa condotta dalla squadra mobile della questura di Pordoinone, coordinata dalla procura del capoluogo originata alcuni mesi fa e sviluppando gli elementi di indagine sopraggiunti, il pubblico ministero titolare del procedimento penale ha disposto alla perquisizione personale e domiciliare a carico di tre persone residenti in provincia. Gli agenti della squadra mobile hanno effettuato perquisizioni delegate nei confronti di tre indagati e rispettivamente residenti a Monte Reale, Valcellina, Meduno e Tramonti di sopra. L'atto di polizia giudiziaria ha dato esito positivo in quanto nell'abitazione del 71enne di origine sarda di Morante a Tramonti di sopra, soggetto già gravato da precedenti in materia di reati contro il patrimonio e contro la persona, i poliziotti hanno acceso nel sottotetto dove occultato dietro alcune piastrelle e tubi di plastica hanno rinvenuto e sequestrato un fucile a canne mozze modificato con il taglio di una parte della canna e del calcio di legno in maniera ad aumentare la capacità di fuoco. Un incendio di probabile matrice dolose divampato all'esterno di una palazzina disabilitata di tre piani in piazza Martiri di Belfiore, un tempo sede da molto tempo dismessa di poste nel quartiere di Santa Maria della Rovere a Treviso, accanto all'ufficio postale attivo. L'allarme è scattato poco prima delle 12.15 di oggi ad andare in fiamme, vari rifiuti tra cui sedie, panche, mobili da ufficio e vario materiale plastico, oltre ad altri rifiuti che da tempo erano accatestati sotto il porticato. Si ipotizza che un ignoto pieromane abbia piccato le fiamme e che qualcuno abbia gettato un mozzicone di sigaretta. domani sul Friuli Venezia Giulia, cielo in prevalenza poco nuvoloso, l'atmosfera inizierà ad essere un po' più umida sulla bassa pianura e sulla costa con possibili locali foschie, giornata zero termico fino a 2000 metri circa con inversione nei bassi strati. Le temperature minime in pianura fra meno 3 e più 2, sulla costa fra meno 1 e più 5, le massime ovunque fra 6 e 8 gradi centigradi. Passiamo al Veneto, tempo ancora stabile, con cielo sereno, poco nuvoloso per passaggi a tratti di nuvolosità medio alta, assenza di precipitazioni. Temperature in generale aumento più sensibile in montagna, sulle Dolomiti, clima diurno meno freddo rispetto ai giorni precedenti, soprattutto in montagna. Previsioni a cura di ARPA FWG Meteo e di ARPAV, agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto. Per il momento dal nord-est è tutto, appuntamento alla prossima edizione. Grazie a tutti.